salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dalla pantera dello svapo oggi vi porto la recensione della winax stilius dg clip allora questa è la scatola qua troviamo scritto già la capacità della batteria di 1.100 miliampere ora 2 ml e la capacità della pod questa comunque la scatola troviamo quello che c'è all'interno di questa scatola all'interno di questa scatola troviamo una scatolina poi abbiamo la batteria la pod e qua c'era la resistenza da 1.2 home che ho montato già qua dentro vi sarà dato comunque una 06 che già sarà montata all'interno della pod e poi qui sarà alloggiata la 1.2 io ho utilizzato la 06 e sto provando la 1.2 comunque la sto provando già da parecci perché ho preso altre resistenze proprio per testarla qui invece abbiamo un manuale d'uso poi abbiamo un utensile con un drip tip aggiuntivo che questo qua che monta è più corto e questo un po più lungo e poi il solito cavo usb micro usb ok ragazzi questa è la winax e qua abbiamo la scritta winax con qua sopra due fori dell'area anche dietro quindi sia dove c'è la scritta e anche dietro c'è alloggiato comunque l'alloggio attacco micro usb scritta stylus dietro abbiamo il tasto power che attorno al tasto c'è il led il led che vi va ad indicare lo stato della batteria la regolazione della potenza l'accensione spegnimento del della batteria e poi varie funzioni allora per accendere spegnere la batteria questa winax basta cliccare cinque volte in questo caso lo spendo perché c'era era acceso quindi 2345 abbiamo andiamo ad accendere comunque la batteria come potete vedere qua il led sta illuminando in rosso perché non è montato comunque la pod allora abbiamo l'indicatore dello stato della batteria quanto il rosso vuol dire che la batteria al 30 per cento quando il blu al 30 70 quando è verde a 71 a 100 per cento poi abbiamo la regolazione della potenza che con tre clic andiamo a cambiare la potenza in questo caso è di colore blu e sta andiamo a una media potenza colore verde a potenza alta e poi c'è il bianco che e significa una potenza bassa comunque ragazzi questa è la winax all'interno troviamo anche i pin qua come potete vedere c'è un po di liquido condensa perché ragazzi purtroppo perde liquido sotto bisogna stare sempre ad asciugare all'interno purtroppo questo è qua come allora adesso passiamo alla pod alla serbatoio questo è il serbatoio qua abbiamo il tip drip tip che potete cambiare con l'altro che è qui dentro quello la più lungo che dopo vado a cambiare perché mi trovo meglio con questo all'interno qua vediamo il foro che a mio avviso è molto grande quindi credo che per uno svapo di guancia non non è proprio il massimo qua abbiamo la linguetta dove voi andate a aprire qua e andate a fare il refill io non lo faccio perché già c'è il liquido all'interno qua abbiamo la resistenza che vi spiego anche l'utensile a cosa serve l'utensile serve che quando dovete cambiare la resistenza voi con l'utensile vi aiutate alzate e poi cambiata la resistenza aspettate quei cinque minuti e ed è pronto comunque dicevo io ci molto questo qua che mi trovo un po meglio rispetto all'altro poi quando avete fatto tutto ho messo resistenza aspettato cinque minuti caricato il liquido basta andare a mettere la pod sopra e il gioco è fatto ragazzi quando inserite la pod si illumina in verde quando togliete si illumina il rosso questa è una pod che ha la funzione sia in automatico quindi con un tiro automatico oppure premendo il tasto sotto in questa maniera e ragazzi c'è poco da aggiungere questa è la winax adesso ci facciamo qualche svapate tra quelle conclusioni ok ragazzi proviamo questa winax ok ragazzi che dire la winax aromaticamente discreta però se devo essere sincero e devo consigliare questa questa sigaretta elettronica ad uno che vuole iniziare un percorso e smettere di fumare no non ce la consiglio perché non è un tiro simile ad una sigaretta io vedo video dove dicono che è fenomenale un tiro contrastato come una sigaretta eccetera eccetera no è un tiro mtl aperto non è un tiro simile ad una sigaretta il tiro contrastato simile ad una sigaretta è questo qua questo è un tiro simile ad una sigaretta no questo è un tiro arioso non è un tiro simile ad una sigaretta per carità questa va bene perché comunque aromaticamente discreta la batteria è gestita bene perché ragazzi dura la batteria gestita veramente bene poi alla forma come un sigaro si tiene bene in mano e leggerissima c'è anche con i gesti però ragazzi non ho trovato di non ho trovato differenza di tiro rispetto alla 06 la 06 è leggermente un po più aperta però la 1.2 c'è un po più chiusa ma è sempre un tiro aperto c'è un tiro mtl arioso molto arioso discretamente e discreta aromaticamente ragazzi perché sì però se devo essere sincero e dare e consigliare questa ad uno che vuole smettere di fumare no sinceramente no la consiglio a chi già svapa da da anni e ha smesso di fumare di sigaretta già da tempo per uno sfizio questa se la porta appresso e non portarsi prodotti sigarette elettronico e la pesante appresso tipo come questa è un'altra però ragazzi che dire per me come voto e 7 perché ragazzi non è un tiro mtl non è un tiro mtl contrastato un tiro simile alla sigaretta no non c'è proprio paragone al tiro che vi ho fatto vedere prima ci sono prodotti simili che hanno un tiro veramente contrastato come una sigaretta quindi grazie poi sta a voi decidere è la mia opinione se volete provare le video da andare perché di caserta e punge di caserta da smokito la prendete la provate fate voi cioè poi sarete voi a decidere e a sapere se è buono o no per me io non la consiglio a chi vuole smettere di fumare poi per carità per quanto costa cioè costerà poco quindi se volete provarla provatela però se volete smettere di fumare questa non ve la consiglio quindi ragazzi che dire per me è un 7 è un 7 basta poi per gli altri buona ognuno ha il suo parere io se devo essere sincero per chi già svapa da anni e vuole un qualcosa da portarsi appresso tipo che ne so per non portarsi quelle sigarette grandi appresso che pesano si compra questa si va bene ma per chi vuole smettere di fumare no mi dispiace ma no che dire ragazzi io vi saluto con la svapata ciao a tutti